Buongiorno a tutti, oggi mi vedete in una sala di degustazione, quindi vi faccio vedere dove vado in vacanza. Oggi volevo parlarvi invece, facendo ricerche per il libro, di un sito che può essere utile nel momento in cui noi vogliamo analizzare il nostro profilo. Vale solo per i profili in inglese, perché è un tool gratuito, ma in inglese, che si chiama Resume Worded. Quindi, questo a cosa serve? Vi darà un punteggio, ma vi dirà anche quali delle sezioni sono secondo lui migliorabili. Attenzione, non è perfetto, non è un tool che vi dà indicazioni precise, guarda la lunghezza, guarda certe parole chiave, eccetera. Per utilizzarlo come bisogna fare? Bisogna salvare il proprio profilo, la parte inglese, lo mettiamo in inglese, in alto a destra. Andiamo sui tre puntini quando siamo sul nostro profilo vicino ad aggiungi sezione e lo salviamo in PDF. Quando poi andremo sul sito Resume Worded, faremo semplicemente l'upload. Lui ci processerà per qualche secondo e vi darà dei punteggi. Vi dirà anche, potrete anche aprire le diverse sezioni, vi darà un punteggio per ogni sezione e vi dirà secondo lui che cosa è migliorabile e che cosa invece già funziona. Potete provare a utilizzarlo, soprattutto che è all'inizio. Proviamo a utilizzarlo per vedere come poi migliora, perché la maggior parte di voi immagino che farà il profilo in italiano e poi però lo farà anche in inglese e quindi la parte inglese sarà comunque valutabile da questo punto di vista. Quindi provatelo e ditemi cosa ne pensate. Per chi ancora è in vacanza, buone vacanze!